Miss Mamma Italiana, dalle passerelle alla solidarietà con un importante viaggio in Tanzania. Che cosa hai fatto? Io ero da anni che volevo fare questo viaggio insieme a molte mamme, molte Miss Mamme, ecco, della tema spettacoli. Quindi grazie a loro, a amici che mi hanno dato doni, mi hanno inviato dei pacchi. Sono arrivata lì e sinceramente ho trovato una realtà veramente devastante. Ecco, io ho alloggiato, ripeto, al Polli Lodge, Bungalo. Queste due persone, Paola Corti e Simone Riva Berni, sono due persone che lei ha fatto volontario otto anni in Kenya, insegnava ai bambini, poi quattro anni lì in Tanzania. E appunto chi va lì, diciamo così, una parte viene data in donazione. Che cosa hai portato a queste persone? Che cosa hanno bisogno loro? Loro non chiedono molto. Allora, una cosa che dicono di non portare mai, sono penarelli e quaderni, perché non li usano. Loro chiedono biglie. Loro sono quei bambini che giocano come noi da bambini sulla spiaggia con le biglie. Dentifrici, spazzolini, tachipirine, assorbenti, per le donne assorbenti e abbigliamento. Ecco, queste cose qua. Io con i soldi che ho ricavato sono andata con, appunto, Jacop, Paola e cose a Stontown. Abbiamo comprato del riso. Pensate che con 110 euro io ho comprato 75 kg di farina, 75 kg di riso, 50 kg di fagioli. E quando siamo arrivati a questo villaggio, che è nell'interno, con 30.000 scellini, che sono circa 10,80 euro, ho ricaricato anche la corrente al villaggio. Per cui, diciamo, con poco puoi fare tanto. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato... Allora, innanzitutto io ho regalato sorrisi loro, ma loro hanno dato tanta gioia a me. Cioè, io ho bisogno di fare questo. Non sono loro che hanno bisogno di ricevere. Cioè, loro hanno bisogno sicuramente, però fa bene a te stesso.